Dal leggio utilizzato da Lincoln per proclamare l'uguaglianza di tutti gli esseri umani alla fine della guerra con gli stati confederati, Papa Francesco ha difeso il diritto alla libertà religiosa e alla dimensione trascendente dell'esistenza umana. La dimensione religiosa non è una sottocultura, è parte della cultura di ogni popolo. Davanti all'Independence Mall, dove sono nati gli Stati Uniti d'America, il Pontefice ha denunciato il pericolo della globalizzazione del paradigma tecnocratico, che punta ad un'uniformità dimensionale e cerca di eliminare tutte le differenze e tradizioni in una superficiale ricerca di unità. Se la globalizzazione è una sfera dove ogni punto è uguale, equidistante dal centro, ha spiegato Francesco, annulla, non è buona, ma se unisce come un poliedro dove ognuno conserva la sua identità, è buona e fa crescere un paese. Le religioni, ha proseguito Papa Bergoglio citando la sua esortazione Evangelii Gaudium, hanno il diritto e il dovere di far comprendere che è possibile costruire una società e in cui un sano pluralismo, che davvero rispetta gli altri, è un prezioso alleato nell'impegno per la difesa della dignità umana. Infine il Papa ha salutato con particolare affetto i membri della grande popolazione ispanica d'America e coloro che sono immigrati di recente negli Stati Uniti. Non vergognatevi delle vostre tradizioni, è stato il suo applaudito appello, e non dimenticate le lezioni apprese dai vostri anziani, che sono il contributo con il quale potrete arricchire la vita di questo paese americano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.